O polenta, 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 tutti i pochi con te sei contenta che è alquanto elaborato e quindi nessuno ormai lo fa quasi più è un altro modo facile come polenta io voglio però fare una precisazione dicendovi che una volta i nostri nonni e le nostre nonni Our Grand Frater, Our Grand Mood, mangiavano sempre polenta che gli temi di dai polenta, che i gravi è polenta e for the reason, my friend, my polenta, per i costi di una fredda, quello io ho fila Ok, detto questo, passiamo a farvi vedere come si fa questa polenta diversa Visto sei polenta in my way, o in the way of the effect Ok, prima cosa, bisogna far saltare in padella gli spinaci che sono questi, congelati, fronze e spinaci e un po' onion, un po' oil, butter if you like un po' peccone e un po' cheese if you like ok e poi mettete dentro della farina gialla yellow corn male ok e un po' di farina bianca a little wet flow e poi mescolare bene il tutto mescolare molto bene il tutto il servo e anche un po' d'acqua ok, adesso che abbiamo mescolato bene la cucchiamo dentro l'astra da forno in questo modo e poi la dobbiamo livellare bene per lo spessore di circa mezzo centimetro ecco, l'abbiamo livellata e adesso la mettiamo al forno per circa 30 minuti ecco otterrete così una polenta bella e compatta come questa che potete usare per fare dei campi per fare dei campi per fare dei snack ecco che vi potete portare in ufficio, a scuola, al lavoro, dove vi pare e così avrete una bella carica di energia per tutto il giorno come il fortissimo Popeyes ciao a tutti arrivederci alla prossima ricerca oh, polenta, polenta, polenta tutti i pochi conti se contenta